Buongiorno e buon caffè. Come sapete tutti benissimo, negli scorsi giorni, nelle scorse settimane, si è laureata mia figlia. E ovviamente da animale social quale sono, e animale potete interpretarlo come volete, ho pubblicato una serie di fotografie della giornata di proclamazione della nuova dottoressa e della piccola festa che mi è seguita. E questo mi ha invistato, costretto diciamo così, a riflettere molto su quest'evento e soprattutto sulle conseguenze. Non parlo tanto delle conseguenze della laurea, ma delle conseguenze della mia pubblicazione, perché improvvisamente ho compreso un sacco di cose. Già perché in passato, quando vedevo pubblicate sulla rete foto analoghe, quindi di laureate o laureati, non è che ne avessi un'impressione così positiva. Vabbè, sì, ok, si è laureato e allora, ma perché ce lo stai a dire? E invece, quando è toccato a me, ho capito perfettamente qual era il senso di tutto quello, almeno il senso per me e quindi il senso per queste persone. Condividere una gioia, il piacere di vedere condiviso qualcosa che per noi è importante e che riteniamo meriti l'interesse degli altri, meriti di essere messo in vetrina. La stessa cosa mi era successa molti anni fa, con un funerale, perché non so se è per una sorta di difficoltà a mostrare le emozioni, difficoltà a comprendere veramente il piano delle emozioni, perché forse il mio aspetto dominante è quello razionale, ma ho sempre fatto molta fatica a partecipare ai funerali e mostrare empatia con le persone nei funerali, con i cari delle persone scomparse, perché avevo quasi l'impressione che fosse un modo per mettersi in mostra, per dire guarda io c'ero, hai visto che sono venuto? Fa conto che sono stato qui, che ho rinunciato a una giornata di lavoro o altro per venire. E questo non mi piaceva, perché non credo che sia questo il senso dell'affetto che bisogna mostrare. Però poi quando è successo a me è vedere le persone intorno, le persone che venivano ad abbracciarti, le persone che hanno mostrato di esserci e di essere lì perché ci credevano, perché volevano dare un segno, mi è stato molto utile. Riassumo, concludiamo il caffè. Quindi bisogna stare dentro le cose per capire veramente quello che provano gli altri. I giudizi dati da fuori, i giudizi dati partendo da una posizione che non si è compresa, sono molto fallaci. E credo che questo valga per tanti casi della vita. Grazie, buongiorno e buon caffè.